Oggi mi sarebbe piaciuto parlare degli europei, della finale in arrivo, lo faremo domani Lo faremo domani perché oggi vorrei inevitabilmente dedicare spazio alla questione immobile Che non è ufficiale in questo momento, sono le due di pomeriggio, non lo è ancora Ma ormai a quanto pare è cosa fatta, ufficiosamente è fatta E io è da ieri che rifletto su quanto sta accadendo, su quello che è accaduto E come dicevo a un paio di amici, sono col cuore un po' spezzato a metà Nel senso che da una parte sono contento, tra virgolette Perché ritengo, come vi dico da settimane, sei mesi in realtà Che la storia tra i popi ragazzi sia finita da tempo Che non sarebbe stato utile a nessuno portarla avanti in eterno Dall'altra sono addolorato chiaramente da tifoso che l'ha seguito, amato, sostenuto In mille occasioni, anche quando tutti li andavano contro E ero uno dei pochi che in qualche modo manifestava sempre vicinanza, sostegno Non so, voi ricordate quante volte avete detto Ah sei un fanboy dei mob Quando in realtà apprezzavo semplicemente quello che faceva E quello che era in un certo periodo Quindi diciamo che il discorso non può prescindere dai 207 gol che ha fatto la Lazio Un risultato incredibile che lo farà rimanere nella nostra storia per sempre, credo E' stato un calciatore importantissimo, ha scritto pagine importanti della storia naziale Scarpa d'oro, Scudetto sfiorato, due Supercoppe, una Coppa Italia Insomma, un giocatore che ha dato tanto e che ricorderò in maniera particolare Per l'impegno che ha sempre messo in ogni partita Per averci sempre provato in tutti i modi possibili Per aver anche compromesso, credo, alla lunga la sua condizione atletica Per questa sua voglia di esserci sempre Il mobile ha avuto dei recuperi lampo nel corso degli anni Proprio perché ha sempre forzato i tempi Perché ci teneva, perché sapeva di essere importante E quindi ha messo a rischio la sua effettiva stabilità fisica Pur di dare il suo contributo E questa è qualcosa che non gli potremo mai togliere Al netto dell'opinione di ciascuno E' un giocatore che ha sempre dato tutto fin quando ha potuto E' un giocatore che è stato importante Ci ha fatto esultare più di 200 volte Credo che pochi giocatori possano vantare un traguardo simile Ha fatto tanto in tanti momenti della sua storia E la Lazio ha dato tanto a lui Perché ecco, io trovo che in questi momenti Bisognerebbe prendere anche coscienza di quello che si è ricevuto Ma anche di quello che si è dato in quanto popolo Immobile a Roma ha ritrovato se stesso Ha ritrovato una carriera ad alti livelli Si è rilanciato dopo due parentesi difficili all'estero Ha ottenuto tanti traguardi personali Si è potuto dare una nuova chance Dopo un periodo in cui sembrava che fosse già praticamente al termine della carriera A livello di prospettive intendo E' diventato un simbolo della Lazio E' diventato un trascinatore E' diventato l'uomo immagine della squadra per diversi anni Quindi ha ricevuto tanto e ha ricevuto l'amore di un popolo intero Che l'ha sempre portato in palmo di mano Ecco, questo è fuori dubbio Non si discute Alcuni è piaciuto di più, altri più di meno Però diciamo che per anni ci siamo aggrappati a Immobile per E lui ovviamente ne ha tratto enormi benefici Sia di immagine, sia di soddisfazione personale Sia economici nel corso del tempo Per cui credo che sia stato un meraviglioso dare e avere Quello che c'è stato fra la Lazio e Immobile Poi, però, ecco Per quanto io abbia dovuto per amor di verità Dire certe cose Adesso per altrettanto amor di verità ne dovrò dire altre Perché quella di Immobile E chiudo la finestra Se no non riesco a fare un discorso di senso compiuto I lavori mi stanno a mandare i pazzi Dicevo, quella di Immobile è una storia Che ha un meraviglioso inizio Una meravigliosa parte centrale E un epilogo Che secondo me non è all'altezza di quello che c'è stato prima Questa è la cosa che più mi adora Perché, rimasto, chi mi segue da un po' E mi conosce un minimo Avrà notato la mia evoluzione Nel vivere emotivamente la figura di Immobile Per me era un beniamino E nel corso del tempo Questo amore così incondizionato È un pochino cambiato Si è un po' evoluto Perché credo che Sia stato in alcuni momenti Non all'altezza forse dell'immagine Che ci eravamo fatti di lui Da un punto di vista puramente Emotivo Io trovo che la Lazio abbia vissuto anni Meravigliosi Soprattutto quando c'era Inzaghi Poi con l'addio di Inzaghi Le cose hanno iniziato a cambiare Si è messa in moto una ruota Che ha dato poi il via d'alti ingranaggi E gradualmente qualcosa si è alterato Fino a portare a quello che abbiamo oggi C'è uno stravolgimento totale Di un progetto tecnico Che con Sarri prima e con Tudor poi Aveva avuto delle evoluzioni E Immobile in più di un momento Non ha rispecchiato Quello che io mi sarei aspettato E non ha in qualche modo fatto Quello che avrei sperato Immobile negli ultimi due anni Mi ha ferito un po' Da tifoso Ci sono stati momenti In cui non l'ho visto Il capitano che avrei voluto Momenti in cui Avrebbe dovuto magari Esserci di più E in momenti in cui si è percepito Davvero poco Cioè in quanto capitano Io avrei voluto di più da lui A livello proprio di Spogliatoio A livello di Immagini A livello di Trascinare anche fuori dal campo La squadra E la Lazio Nei momenti di maggiore difficoltà L'addio di Sarri La questione Tudor Lui non si è fatto percepire Ai miei occhi Poi magari alcuni L'avranno percepito Però io Devo dire Ho sentito tanto Quella mancanza La mancanza di un capitano Che ci mettesse Tutto se stesso Per Limitare i danni E i disagi Di un periodo Veramente complesso Per la Lazio E i Laziali E l'ho percepito Un pochino troppo Assente In alcuni momenti Questi silenzi Questi Questi Questo dove è immobile In alcuni momenti L'ho un po' Sofferto Così come ho sofferto I momenti in cui Ci è sembrato A me A tanti altri Un po' Non pienamente lucido Su alcune questioni Nell'anno Più difficile In cui tutto Andava male I momenti in cui Si è parlato Di questioni Extracampo Mi hanno lasciato Un po' Perplesso Momenti in cui Non l'ho visto Come me lo sarei Immaginato È tutto un discorso Di aspettative In realtà Sì Però anche Di aspettative Rispetto al ruolo Di capitano Che credo Lui non fosse adatto A ricoprire In più di qualche momento Immobile È un grandissimo Attaccante Continuo a credere Lo crederò sempre Perché 200 cori in Serie A Non li fai per caso Però credo che Il ruolo di Trascinatore Di un gruppo Non sia il più adatto A lui E questo credo Che sia Oggettivo Anche perché Così come lui Ci ha sempre messo Tutto In alcuni momenti Avrebbe dovuto Comprendere In altri momenti Che sarebbe stato Più importante Forse Farsi un po' Da parte Cioè adesso Dopo Dopo anni Insieme Dopo 200 e passa Gol Dopo tanti Momenti Importanti Vederlo andare via Dopo un anno Così difficile A 4 lire In un campionato Che secondo me Non è Così prestigioso Almeno per il momento Senza un addio Veramente come si deve Senza Senza Cioè Non lo so ragazzi Non Sono Ma cioè Sono un po' Un po' In preda In preda Le emozioni In questo momento Perché Si alternano dentro di me Delusione Tristezza Un po' Il cuore spezzato Un po' Di fastidio Un po' Di Di rabbia Un po' Di tante cose Credo che sia Che normale Però sono Sono complessivamente Dispiaci Amareggiato Ecco Amareggiato perché Quella tra Lazio e Immobile Tra i Laziali Immobile era una storia D'amore meravigliosa Che si è chiusa Nel peggior modo possibile Ed è una cosa Che vi dicevo da tempo Spero che la storia Tra i Lazio e Immobile Si chiuda prima che Possa accadere qualcosa Tale da sporcare Un po' Quello che c'è stato Questo tipo di addio Non sporca Ma non Ma non omaggia Neanche Non 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 dà il giusto risalto A ciò che è stato È una fine È una fine Scialba Una fine Insoddisfacente Una fine Amara Una fine Insignificante E Credo che Credo onestamente Che sarebbe stato Più bello Essere un po' Tutti più consapevoli E qui parlo Di Immobile E della Lazio Perché noi laziali Potevamo far poco In questo senso Però Cioè comprendere Che il ciclo era finito E agire di conseguenza Magari chiudendo Il campionato In un certo modo E dicendo Ragazzi a fine anno Me ne andrò E la Lazio Dicendo a fine anno Se ne andrà Cioè chiuderla In maniera un po' Più Non riesco a trovare Il termine Però In maniera Più sensata Ecco In maniera Più conforme A quello che è stato Il pregresso Questa è una fine Sì resta Ma non lo so Se resto No E resto a vita Poi qui La società Che ti dice No ma Immobile Resta Poi dopo due giorni Invece Invece scopri Che in realtà No E allora Allora Val Besiktas Nessuno Parla Due giorni fa Sembrerebbe Da quello che hanno riportato Che Fabiani Abbia detto Che Che non era Nulla di definito Nessuno sapeva niente L'offerta Non sono arrivata E poi dopo due giorni Scopri che lui stasera Probabilmente Sarà Sarà in Turchia A firmare Cioè La trovo Veramente Una fine Peraltro Dopo un periodo Di profondi silenzi Non lo so ragazzi Non lo so Io Ripeto Lui Lui è stato Credo che Che la cosa La cosa peggiore Che sia Che potesse accadere Sia quella di Cioè Sia stata quella Di ritrovarsi In un gruppo In cui lui si è ritrovato A dover Ricoprire il ruolo Del Del perno Dello spogliatoio Senza averne Le caratteristiche adatte Questo ha causato Secondo me Una lunga serie Di problemi A effetto domino Che hanno portato A quello che abbiamo Adesso Uno stravolgimento Totale In una sola Sessione Di mercato Abbiamo perso Felipe a zero Immobile A praticamente Zero Perché tre milioni Per uno del genere Sono tra l'altro Con anni di contatto Ancora rimanenti È praticamente Il niente E Luis Alberto Ha dieci milioni E qualcosa Abbiamo perso Tre giocatori Chiave Di un progetto Tecnico Durato anni A neanche Quindici milioni Complessivi È terribile Ora inizia Un nuovo ciclo Benissimo Però io Non posso Nascondere Di esse Cioè Avrei Avrei voluto Una fine diversa Una fine più romantica Una fine più degna Del percorso Fatto insieme In questi anni Trovo che questa finale Di storia Che questo epilogo Non sia Non sia all'altezza Di quello che C'è stato È come chiude Una grande storia D'amore Per telefono Cioè Non lo so Ragazzi Sono Sono un po' così Oggi Sono un po' così Perché da Da una parte Mi mancherà Come l'aria Perché gli ho voluto Un bene Che voi non avete idea Dall'altra parte Non lo riesco A perdonare Per alcune cose In cui Mi sono sentito Poco tutelato Dal mio capitano E avrei voluto Sentire Più Più che tutelato Poco 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 coccolato Dal mio capitano Poco 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 Protetto Ecco A livello anche Mediatico Non lo so Ragazzi Non so manco io Che cosa avrei voluto So che sono triste Come ogni volta Che si chiude qualcosa Di molto bello Nella vita Di ciascuno di noi Non possiamo che essere tristi Un po' confusi Un po' poco lucidi Però ecco Rimarrà Rimarrà Tutto quello che di bello È successo E col tempo Magari riusciremo A lasciarci alle spalle Anche quelle cose Che hanno rischiato Di sporcare Un po' I ricordi E quindi Rimarranno solamente I bei ricordi Spero Prima o poi Però ecco Questa Questa fine Credo non se la meritasse Lui E credo che non Ce la meritassimo noi Perché è una fine Povera 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 di emozioni Povera di soddisfazione Povera di 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 tutto Un ultimo saluto In un certo modo L'avremmo meritato Credo tutti quanti E l'avrebbe meritato Anche lui Pur con degli errori Che gli riconosco Secondo me Ha commesso degli errori Magari per Inesperienza Per caratteristiche Non Non pienamente Adatte al ruolo Che li copriva Per mille motivi Però Gli si vuole bene Quello ragazzi Non Non passerà mai Però ecco Alla luce di tutto Mi sarebbe piaciuto Un finale diverso Quello si Comunque ragazzi Questo è Adesso staremo a vedere Aspettiamo l'ufficialità Ma ripeto Ormai è questione Di ore Credo E staremo a vedere Cosa accadrà Chi arriverà Eventualmente Al suo posto Se arriverà qualcuno Se quello che abbiamo Risparmiato Con lui Servirà Per andare a prendere Qualcun altro Non lo so Però Però Che tristezza Oggi Oggi si Oggi è un giorno triste Un pochino Ragazzi Step forza Lazio E noi ci aggiorniamo Nei prossimi giorni E noi ci aggiorniamo E noi ci aggiorniamo E noi ci aggiorniamo E noi ci aggiorniamo Grazie.